Parliamo di imposizione sugli immobili, questo perché il 2014 si sta rivelando un anno di passione sia per i contribuenti che per i professionisti impegnati nella liquidazione degli imposti sugli immobili, a causa delle schizofrenie normative in tema di IMU, di TASI, e inoltre a causa di alcune novità introdotte con la legge di stabilità per il 2014 all'inizio dell'anno in tema di tassazione di immobili sostanzialmente sfitti. Quindi la compilazione del modello 730, del quadro B, anziché del quadro B dell'errore B del modello unico, è diventata infatti particolarmente complessa e particolarmente delicata. La legge di stabilità, come si accennava al comma 117 dell'articolo 1, ha infatti previsto all'inizio dell'anno, con effetto peraltro retrattivo all'esercizio 2013, che il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, che siano situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito dal contribuente ad abitazione principale e che siano soggettati ad IMU, concorreranno alla formazione della base imponibile IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 50%. Su questa previsione normativa, che così illustrata pare abbastanza semplice, in realtà sono nate alcune perplessità, in particolare due specifiche, diciamo su due tematiche particolarmente delicate. La prima è l'interpretazione in merito al criterio di individuazione, alla corretta individuazione dell'abitazione principale. La seconda invece tematica è quella del dubbio sul merito della portata dell'effetto di sostituzione IRPEF-IMU, diciamo come era stata illustrata con l'introduzione del nuovo tributo. Su queste due perplessità interpretative è stata emanata una circolare, la 11e del 2014, pubblicata dall'Agenzia dell'Entrata il 21 maggio scorso, la quale ha fornito dei chiarimenti in materia. In particolare sul primo dubbio, quindi sulla corretta interpretazione del concetto di abitazione principale attribuibile nell'assoggettamento IRPEF per il 50% delle case sfitte, la circolare 11e ha chiarito che con la modifica dell'articolo 8,1 del decreto legislativo 23 del 2011 si è inteso sostanzialmente richiamare la nozione di abitazione principale già individuata ai fini delle imposte sui redditi. In particolare quella che ritroviamo, il riferimento da prendere a punto di partenza, è quello individuato nell'articolo 10,3 bis del TUIR in tema di deduzioni IRPEF sull'abitazione principale. Per abitazione principale si intende quindi quella in cui la persona fisica dimori abitualmente e che possiede a titolo di proprietà o di altro diritto reale. Aspetto questo non emergente, diciamo, in maniera automatica dal dettato del comma 717 della legge di stabilità. Sul punto si segnala anche una risoluzione un po' datata ma sempre chiarificatrice, risoluzione ministeriale 13 del 2000. Sul tema appunto la circolare fa due esempi specifici per chiarire meglio la situazione, peraltro esempi scolastici ma che possono essere d'aiuto. Nel primo caso appunto prevede un contribuente con dimora abituale in un immobile che sia in locazione, quindi che il contribuente detenga a titolo locativo e prevedendo in più, diciamo, che il contribuente abbia la proprietà di un immobile, di un'unità immobiliare abitativa non locata, assoggettata a dimu, nello stesso comune in cui ha la dimora abituale e anche, diciamo, la residenza. In questo caso non ci sarà il concorso per il 50% della base imponibile sull'immobile non locato da parte, diciamo, nella dichiarazione del contribuente. Un secondo esempio riportato dalla circolare invece è quello in cui il contribuente abbia dimora abituale in un immobile di proprietà e nello stesso comune abbia un altro immobile sempre in proprietà che non sia locato, assoggettata a dimu. In questo caso invece sarà proprio il caso specifico, il caso, diciamo, più palese in cui la norma opererà e pertanto il reddito fondiario, quindi la rendita catastale dell'immobile non locato o di proprietà dovrà essere assoggettata per il 50% a dire in quadro B della dichiarazione. Questa regola specifica alla circolare si applica anche se la dimora abituale sia, diciamo, collocata in un fabbricato rurale di proprietà e in più si detenga un altro immobile sempre non locato in proprietà nello stesso comune assoggettato a dimu. Il secondo chiarimento fornito dalla circolare attiene invece l'effetto sostitutivo, interpretazione della reale portata all'effetto sostitutivo imu-IRPEF. Ricordiamo che l'articolo 8,1 del decreto legislativo 23 del 2011 prevedeva sostanzialmente una sostituzione dell'IRPEF e delle sue addizionali con la nuova, diciamo, imposta IMU per quanto riguardava appunto l'reddito fondiario dei fabbricati non locati e dei terreni sfitti in particolare per la componente di reddito dominicale. Alla luce, diciamo, di tutte le modifiche normative, peraltro convulse, spesso confuse e in rapida successione, l'agenzia ha chiarito che l'effetto di sostituzione rimane valido in tutte le ipotesi in cui il tributo, quindi l'IMU, sia dovuto sostanzialmente e quindi nei casi in cui nel 2013 si sia corrisposto o solo il primo acconto o il primo e il secondo, diciamo, la prima e la seconda rata IMU, o anche solo la mini IMU, così come è chiarito anche dalla risoluzione ministeriale 42 del 2014. L'effetto sostituzione inoltre rimarrà comunque valido anche nel caso in cui l'IMU sia giuridicamente dovuta, ma non sia stata versata per effetto di detrazioni, diciamo, capienti, oppure per effetto, diciamo, del fatto che a seguito del calcolo l'imposta dovuta sia risultata inferiore ai minimi di versamento previsti dalla norma. I chiarimenti della circolare comunque non esauriscono i dubbi che possono sorgere in materia, in realtà le casistiche sono numerose e spesso particolarmente complesse. Spaziamo, diciamo, puliamo il campo dai casi in cui la nuova norma non dovrà essere applicata, cioè tutti quei casi in cui le seconde case siano detenute in comuni diversi da quello della dimora abituale. Sono fatte per tanto salve sostanzialmente le case al mare, in montagna, le seconde case, diciamo, di villeggiatura. Nel caso in cui invece gli immobili siano detenuti nello stesso comune, può essere interessante segnalare un caso specifico, peraltro piuttosto frequente, secondo cui il contribuente potrebbe avere un'abitazione principale in proprietà e un altro immobile di proprietà nello stesso comune concesso, incomodato, d'uso a un parente, per esempio a un figlio. In una prima ipotesi potrebbe accadere, sarebbe potuto accadere che l'immobile sia stato soggetto ad IMU, seppur magari con aliquota agevolata per previsioni specifiche del comune. In questo caso l'effetto sostituzione opererà e pertanto l'immobile sarà imponibile IRPF solo per il 50%. Se però, in una seconda ipotesi, il comune abbia deliberato, assimilando di fatto questo immobile concesso incomodato alla prima casa, quindi l'IMU non sia stata versata, ecco, in questo caso l'effetto di sostituzione non sarà operante e pertanto occorrerà assoggettare a IRPF il 100% del reddito fondiario, quindi della rendita catastale, peraltro rivalutata del 5%, ecco, assoggettarla a IRPF, quindi tutta in quadro B della dichiarazione dei redditi. Un'ulteriore, diciamo, un'ulteriore particolarità, dubbio da segnalare potrebbe essere quella in cui, a differenza di questo caso appena illustrato, il secondo immobile detenuto a titolo di proprietà nello stesso comune fosse a disposizione del contribuente. In questo caso lo stesso reddito fondiario, quindi la rendita catastale, concorrerà a formare la base imponibile IRPF per il 50%, ma bisognerà fare attenzione e ricordarsi, diciamo, delle previsioni ai sensi dell'articolo 41 del TUR, per cui questa parte di rendita dovrà essere sostanzialmente aumentata di un terzo in quanto l'immobile tenuto a disposizione, sempre ovviamente in aggiunta rispetto alla maggiorazione, diciamo, standard del 5%. Facendo riferimento a un modello piuttosto diffuso, quindi il modello 730, nel quadro B da quest'anno abbiamo, ricordando che questa norma, appunto, opera e retroattiva al 2013, pur essendo stata, diciamo, adottata all'inizio del 2014, nel modello 730, dicevamo, è stata introdotta una colonna, la colonna 12, nel quale sarà necessario, nei casi illustrati, inserire il codice 3, che fa riferimento agli immobili abitativi non locati, ottenendo quindi la tassazione del 50% IRPF della rendita catastale di tale immobile. Se questo codice viene abbinato nella colonna 2 al codice 2, quindi all'unità immobiliare a disposizione, la rendita dichiarata sarà quindi maggiormente anche dell'un terzo, nel caso in cui l'abitazione principale sia nello stesso comune di questo secondo immobile. Una velocissima riflessione sul merito di questa nuova norma, la dottrina, insomma, si è pronunciata dichiarando l'iro ragionevolezza e l'iniquità di una tale disposizione che colpisce, peraltro per motivi diciamo palesi, perché colpisce solo immobili abitativi senza diciamo quindi una corretta distribuzione, una corretta equità impositiva. E poi comunque va a colpire solo gli immobili che siano siti in un comune e quindi magari non penalizzando diciamo patrimoni più importanti. Con questo ovviamente non si vuole dire che tali immobili debbano essere passati, però è per focalizzare diciamo l'attenzione sul fatto che è una norma irragionevole e sostanzialmente adottata con sole finalità di pura cassa. Peraltro poi l'effetto retroattivo previsto dalla norma quindi che entra in vigore sostanzialmente dal primo di gennaio 2013, nonostante la legge di stabilità sia stata sostanzialmente adottata all'inizio del 2014, ovviamente un comportamento che va in spregio alle previsioni dello statuto del contribuente per cui viene prevista appunto l'impossibilità di retroattività di norme tributarie a sfavore del contribuente.